file group esperienza innovazione e passione azienda specializzata nella produzione di infissi in legno alluminio acciaio e pvc per interni ed esterni il prestigio la qualità dei nostri infissi sono il risultato di una costante attività di ricerca e design all'insegna dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale personale specializzato e macchinari all'avanguardia per soddisfare ogni richiesta del cliente viene a visitare il nostro showroom a marciano file group vesti la tua casa con i nostri infissi riparte il campionato di eccellenza dopo la sosta e all'orlando strinati di terni va in scena il match tra terni fc e nestor valevole per la ventisettesima giornata il campionato agli sgoccioli ed ora ogni punto pesa tantissimo lo sanno bene i ragazzi di borrello che sono reduci da otto vittorie nelle ultime nove gare e si trovano a meno uno dalla vetta situazione totalmente opposta per la nestor che arriva al match dello strinati da ultima della classe e con la vittoria più recente che risale a lontano 28 gennaio il primo squillo del match al nono minuto ed è degli ospiti corner battuto corto passa piedi sulla porta sul mancino e conclude verso la porta di cunzi che però lo aspetta lì la risposta dei locali non si fa attendere e arriva 120 secondi più tardi azione avvolgente di pacilli sulla destra la sfera arriva bagnato che conclude da fuori ma trova l'ottima risposta di buntanari che si rifugia in corner al dodicesimo si sblocca il parziale lo strinati calcio d'angolo del terni fc palla con il contagiri di pacilli sul secondo palo per bagnato che arriva con i tempi giusti e conclude di destra al volo siglando l'ennesima perla del suo campionato e portando sopra i suoi la nestor prova a reagire al diciottesimo ma il colpo in destra di paradisi sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti viene bloccato tranquillamente da cunzi al trentatreesimo altra azione meravigliosa sulla fascia destra per il terni fc i rosso verdi si cercano e si trovano alla perfezione la palla arriva proiettizzolla che elude con una finta il difensore ospite ma una volta tu per tu con montanari si fa ipnotizzare da quest'ultimo che respinge di piede due minuti più tardi è sempre montanari a tenere a galla i suoi questa volta il pericolo arriva dalla sinistra con ronconi ed il numero uno ospite compie l'ennesima gran parada della sua domenica deviando in corner il terni fc va fortissimo e poco dopo disagassi zabal sfiora la rete del 2 a 0 un indemoniato pacilli lascia partire un cross perfetto all'interno dell'area avversaria il puntero argentino impatta la grande di testa ma la sfera si stampa sulla traversa al 45esimo torna ad essere pericolosa la nestor passa piedi cerca la soluzione da fuori ma kunzi si allunga bene e tocca in angolo salvando i suoi nella ripresa dopo soli due minuti c'è subito un grande spavento per il pubblico di casa mancini va verso il fondo e crossa dentro il traversone sembra sballato e anche kunzi lo battezza fuori ma la sfera sbatte sulla traversa e torna in campo al 26esimo minuto ci prova il neo entrato leonardi da fuori ma il suo mancino è centrale e termina tra le braccia di montanari al 35esimo è sempre montanari ad esaltarsi sulla botta a colpo sicuro di desagassi zabal il numero 1 abbassa ancora la saracinesca e tiene in vita i suoi al 42esimo pacilli dalla destra se la porta sul mancino e calcia montanari risponde ancora presente e compie l'ennesimo grande intervento di giornata anche con l'ausilio del palo allo scoccare del 45esimo minuto la nestor rimane anche in dieci a causa dell'espulsione di passa quieti che macchia la sua ultima prestazione con il cartellino rosso dopo cinque minuti di recupero il signor fanelli fischia tre volte mette la parola fine sul match grandissima prestazione non a vittoria nelle ultime dieci per il terne fc che rimane sempre a meno uno della capolista cf foligno perde ancora invece la nestor che rimane a quota 19 punti in classifica occupando l'ultima posizione siamo con il tecnico del terne fc roberto borrello mister ennesima vittoria nona nelle ultime dieci meritavate di segnare anche qualche gol in più questo terne fc vince e convince sì anche se oggi non era facile sai dopo 21 giorni di riposo insomma poi trovare temperatura così tanto caldo non era semplice contro una squadra che era venuta qui a giocarsi le ultime speranze per potersi salvare quindi i ragazzi hanno fatto una gran partita in queste ultime giornate ci si gioca tanto come come arrivate a queste ultime sfide ma arriviamo tranquilli insomma sappiamo che per poter arrivare allo scontro diretto in questa situazione dobbiamo cercare di poter fare il risultato domenica prossima a città di castello risultato che non campo difficile una squadra stata costruita per fare per fare per lottare per vincere il campionato e che si trova mischiata sotto quindi non è non è un campo difficile non è che non è una situazione facile siamo con guido vicarelli il tecnico della nestor mister oggi potevate fare qualcosa di più oppure era un'impresa troppo troppo ardua per voi ma la differenza di qualità fra i due squadre la dice tranquillamente la classifica però penso che noi con tanta organizzazione siamo stati siamo riusciti a rimanere in partita fino alla fine è chiaro poi c'è mancato ci sono mancate le occasioni che hanno avuto loro che hanno legittimato assolutamente la loro vittoria e penso che noi abbiamo avuto il coraggio di giocarci la viso aperta e appunto nel secondo tempo abbiamo visto una una partita forse anche un po più bloccata potevate fare più male alla difesa alla difesa di casa pur comunque come dice lei come ha detto lei in precedenza pur avendo comunque una differenza potevate fare più male alla difesa di casa non soprattutto nella seconda frazione quando sono stati meno pericolosi loro è chiaro che quando giochi in casa della seconda in classifica da ultima in classifica l'unico modo per riportare qualcosa e tenere in vita la partita fino agli ultimi minuti noi l'abbiamo fatto e quindi la squadra ha provato a fare quello che avevamo anche provato in settimana purtroppo non abbiamo trovato l'episodio